Patrick, dove hai messo SpongeBob? Non si trova qui al momento. Potete lasciare un messaggio dopo il beep. Va bene, allora dimmi, da quando in qua tu possiedi due case? Mi serviva più spazio per mettere via le mie cose. Ah, capisco. E come mai la tua casa ha i piedi? Così posso spostarla quando voglio. Ciao, ciao, Sandy. Oh, la terapia che ho scelto per lui sembra funzionare alla perfezione. SpongeBob deve farsi vedere da un vero dottore. No, ti sbagli, io so bene come guarirlo. Non è così, SpongeBob. Coraggio, Dio. È perfino peggio di quanto pensassi. Ma che cosa dici? Sto benissimo. Patrick, ragione, sto bene, Sandy, davvero. Adesso tu vieni subito con me dal dottore. Ehi, quello è il mio paziente. Non puoi portarlo dal dottore. Non fare il testore, Patrick. Voglio curarlo io. Vedrai che dopo sarai meglio. Ti salvo io, amico. Sto, sto già meglio, amici, davvero. Davvero. Hai visto cosa hai combinato, Patrick? Cosa stai dicendo? Andava tutto bene finché non sei arrivata giù. Dovrebbero arrestarti per aver finto di essere un dottore. Guarda che io sono un bravo medico. Diggilo, SpongeBob. SpongeBob. Non riesco a fermarmi. Aiutatemi. Ciao, bella monetina. Mr. Brown. Ma questa voce... Fermati, SpongeBob. Fermo. Grazie a tutti.